Ciao, sono stato rapito da dei dissidenti del governo centrale britannico e trasferito d'ufficio in una prigione in una zona non ben distinta del sud-est asiatico. Sto cercando di fuggire. La temperatura è assurda, come senti gli aborigeni intorno a me fanno casino. Sto grondando di sudore perché ci saranno il 90% di umidità, visto che quei banani prolificano molto bene. Sono sotto una fantastica cupola geodetica che ricrea un po' di ambienti sulla terra, tra cui quello tropicale. Abbiamo iniziato col clima delle foreste. Siamo, non so dove siamo, all'inferno penso ormai. Foresta tropicale del Sud America. Tutte le piante tipiche del posto. fiumi veri, insetti anche, non mancano i serpenti. E' un posto fantastico. Cioè per la serie tornarci. Ho detto ci faccio un giro, due ore e mezza, non bastano. Assolutamente. Adesso torno giù nella foresta. Questa è una passerella.